allora benvenuti tutti tappa numero 2 dell'andalucia bike race secondo Chuck perché il primo è andato a banana allora oggi tappa numero 2 già detto e come è andata? spiega un po il percorso come era oggi e come è andata a finire allora spieghiamo il percorso esatto intanto 52 chilometri per 1.400 devono essere invece in realtà erano 1.600-1.700 1.600 forse quindi un po più duro del previsto è una prima parte caratterizzata da un ritmo di sali scendi tipo stile cross country quindi percorso un po nervosetto i primi 20 chilometri poi un 10 15 chilometri con due salite lunghe prima di affrontare una lunga discesa fredda innevata e portarsi portarsi l'arrivo quindi diciamo che la gara dopo il trentesimo la punta era il trentesimo chilometro trentesimo chilometro praticamente andava un po di salite non c'erano più qualche strappetto ma perlopiù era molto molto veloce quindi una volta fatta la selezione scollinato la era tutta discesa dai si qualche strappetto infatti per quanto mio i miei problemi erano i primi 20 chilometri nei sentierini su e giù rampe durissime che mi preoccupavano molto e gli ultimi 30 chilometri da quando si scollinava a scendere giù invece la discesa non era tolta il ghiaccio per terra il problema principale proprio il ghiaccio più che la neve si era tornato del ghiaccio sul sentiero quindi i primi primi due chilometri erano impegnativi cioè il sentiero non era nulla di che però semplicemente dove ti trovi a fare queste curve tra un albero e l'altro con il ghiaccio a terra non era proprio il massimo comunque come è andata la gara è andata c'è andato forte dai alla fine sopra ogni aspettative siamo usciti dai 20 chilometri davanti perché siamo andata via subito una coppia più forte di noi comunque c'era dentro il campione europeo e non chiedetemi i nomi chi erano fabian rabesteiner e vutt allemand ok comunque due forti e che andavano più forte sono andati i presi andati via subito e ciao non l'abbiamo più visti dietro invece si è formato un gruppetto in seguitore eravamo tipo era sei coppie a inseguire sei coppie e continuava a rompersi sto gruppo e tutto e noi alla fine eravamo sempre lì sempre davanti davanti così avevamo trovato un bel passo sia in salita che nel tecnico non andavamo male oggi eravamo in sintonia oggi e quindi motivatissimi scollinato e la discesa non l'ha fatta tutta quindi sono stato dentro e siamo arrivati al fondo a giocarci alla fine della seconda piazza in volata e colpo di scena della giornata ho strappato la catena a un chilometro dall'arrivo ma perché c'era la coppia che era leader con la maglia attaccato all'ultimo chilometro forte noi presi benissimo ci siamo buttati dietro e come mi alzo sui pedagli è partita la catena e di conseguenza come si risolve io non avevo neanche la cassa maglia il buon domenico mi ha tirato fino all'arrivo quindi io lo incitavo dai 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 non mancava tanto l'arrivo dai che è quasi finita dai che è quasi finita continuavo a dirgli dai che 300 metri all'arrivo e poi guardavo dai 250 ne erano passati 150 comunque mi ha trascinato fino all'arrivo e abbiamo perso due minuti da quel gruppo due minuti su un chilometro però abbiamo fatto comunque settima coppia e eravamo lì in bagarre tutto il giorno e siamo divertiti almeno io mi sono divertito io mi sono divertito però è stato un po' lo smacco no? un po' lo smacco perché sembrava la gara così come hai detto tu non era prevista cioè non pensavamo di effettivamente di andare così bene oggi quindi esser lì e vedere il podio ci avevamo fatto un po' la colina vero? sì non è che magari abbiamo rotto la catena a metà gara quindi dicevo vabbè non si sa mai cosa sarebbe potuto succedere eravamo lì a un chilometro dall'arrivo dopo vabbè tra l'altro la volata è andata anche un po' strana quindi secondo me con un po' di fortuna non si può dire l'altro ce la giocavamo secondo me vabbè dai comunque tappa 1 ruota tappa 2 catena e domani cosa la rompiamo? vabbè dai domani lo facciamo desiderare ai tuoi fans commentate su cosa si romperà domani parte un sondaggio vediamo chi vince e niente dai domani è la tappa la più lunga dell'Andalusia Bike Race non è la più lunga? ho sbagliato domani è la tappa più dura perché la più lunga è il quinto giorno venerdì è vero però probabilmente è la più dura dicono perché è quella con più dislivello no? domani ci sono quasi 3000 metri di dislivello ecco e si ritorna a 1400 con la neva si sale forse anche un po' di più rispetto a oggi quindi ci vediamo domani così scopriamo che danno facciamo domani speriamo non su di noi ciao